Guardate un po' chi vi ho portato qui, Marco Bianchi, lo conoscete tutti, tutti lo adoriamo ma soprattutto con Marco Bianchi oggi entreremo nella casa che tutti noi immaginiamo e sogniamo perché lui è uno chef scienziato, uno scienziato chef che educa milioni di persone ad una cucina sana, gustosa una cucina che tira fuori il bello di noi, una cucina fatta con amore, scrive tantissimi libri ormai io l'ho seguito, tappa tappa dal primo e adesso siamo arrivati al quindicesimo Confermo, ciao Nicoletta, buongiorno Bene, allora l'ho catturato perché così quando scrive libri poi ha un debito con me e io voglio che racconti tutto e oltre Certo Alle persone che seguono Obiettivo Salute sono fan di Marco Bianchi Marco, cucinare è un atto d'amore, siamo al quindicesimo libro Guarda, sono emozionato come il primo libro, quindi come le nostre prime chiacchierate Bello, ti ricordi? Eh sì, sì sì, lì c'è ancora più emozione perché ovviamente, però ecco ogni volta che comunque nasce un libro è il racconto di un percorso ovviamente precedente, nel mio caso fatto anche di tanto studio E quindi alla fine mi piace perché viene collezionata quella che è un insieme di bibliografia, letteratura scientifica a riguardo e che mi permette proprio di dire ad oggi dopo quindici libri che cucinare è realmente un atto d'amore Perché? Come racconta oltre anche la nostra amica Giovanna, insomma Stiamo parlando di Giovanna Luini Certo Tutte le puntate Gatti Luini E quindi comunque in qualche modo cucinare è un atto d'amore perché? Perché cucinare rappresenta una forma di prevenzione primaria E questo è fondamentale ad oggi capirlo perché abbiamo una grande arma quindi a nostra disposizione di cui possiamo beneficiare ogni giorno Buona, gustosa Buona, gustosa, che non è una privazione, quindi è questo che dobbiamo far capire Ecco, ma su questo aspetto noi lavoriamo da anni, lavoriamo anche insieme perché mangiare bene vuol dire mettere sulla nostra tavola e ancora prima nel nostro carrello della spesa delle cose buone che ci fanno stare bene Non vuol dire privazione, noi possiamo veramente in cucina sbizzarrirci e nutrire noi, nutrire le persone che amiamo In questo senso è un atto d'amore e è un atto di salute È un atto di salute, è l'obiettivo salute che dobbiamo avere diciamo in maniera inconsapevole perché non deve essere una paranoia Attenzione, il cibo scelto in questo modo deve diventare un piacere per tutti i giorni, per la nostra tavola È un po' egoistico io dico sempre perché dobbiamo partire da una salute per noi stessi E dopo questa attenzione ovviamente ci rivolgiamo anche a chi ci circonda Certo Che sia il compagno, la compagna, un nonno, una nonna, un bambino Quindi a tutte le età possiamo fare del bene attraverso il cibo E ci piace molto perché prima di andare in video Marco mi faceva sbirciare la sua Saker Ma sì ma perché sta spopolando sui miei social, sta spopolando sul blog Quindi sono felice perché oggi giorno il social ti permette anche di capire e comprendere cosa più piace ai tuoi fan, alla tua community E questa Saker sta veramente piacendo un sacco Poi ci darai la ricetta Ve la do ma ve la do più che volentieri Perché oggi parliamo anche di ricette Ma vorrei tornare un po' al tuo libro Che soddisfa la curiosità di tutte le persone che ti seguono e che si chiedono Ma è sorridente, positivo, creativo, rigoroso Perché tutto quello che Marco ci racconta, lo fa bene, è frutto di studi, di una letteratura che viene sempre aggiornata E quindi è sempre sul pezzo Ma che cosa mangerà, cosa farà, quanto dormirà, quanto si muoverà, qual è il suo piatto preferito Allora Marco, apriamo quindi le porte di casa tua E andiamo a vedere intanto una casa che profuma la tua Profuma di buono, profuma di amore, profuma di attenzioni Bravissima, proprio dicendote di questo Profuma di attenzioni soprattutto che partono da una spesa buona, una spesa sana Sana vuol dire che per tutti il consiglio principale è sempre quello di Ovviamente limitare l'acquisto di prodotti che sono poco salubri Che banalmente può essere dalla scatola di cioccolatini Che può esserci sì nella nostra dieta perché il cioccolato fa bene Soprattutto di una certa quantità di cacao Insomma, quindi può essere da limitare alcuni tipi di prodotti Come però arrivare anche alla bresaola, all'affettato Quindi capire che in casa mia non entra perché non ne consumiamo Però chi ne è ghiotto, chi ne vuole consumare nella propria dieta non può farne a meno Sapere che esistono anche delle quantità Consigliate Che non sono inventate Non sono delle quantità che sono suggerite da quello o dall'altro esperto C'è un'organizzazione mondiale che sulla base di studi enormi condotti su milioni di persone, di pazienti Hanno proprio studiato queste correlazioni tra cibo e salute Quindi tra quanto mangiamo e la probabilità dell'insorgenza di determinate malattie Io sono proprio contento di essere qua con te Nicoletta perché riusciamo a parlare E fai bene perché insomma hai un gusto Ma perché con te posso proprio anche parlare di scienza perché è una scienza ovviamente alla portata di tutti Non stiamo parlando del recettore che si accende o si spegne di una determinata molecola Ma possiamo parlare di relazione appunto di dato scientifico che è qualcosa che è fondamentale oggigiorno per parlare di salute vera Ecco perché succede una cosa strana, scusami Noi siamo portati a dare credito a delle notizie che magari circolano su Google O a quello che ci dice la nostra amica, la vicina di casa E ci crediamo E siamo un po' scettici invece su dei dati, su delle indicazioni Che derivano da studi, come diceva Marco, su milioni di persone Quindi io direi fidiamoci e affidiamoci e condiamo tutto con amore e con tanta positività Perché questi sono degli ingredienti che sono sempre nelle tue ricette e nella tua dispensa Sì, questi sono fondamentali Dico sempre che alla base di tutto c'è la convivialità Quindi il poter mangiare a tavola con qualcuno Comunque saper mangiare col sorriso è fondamentale Quindi via i musi lunghi Ma guarda anche qua non sembra ma è proprio la scienza averci dimostrato Che il sorriso, comunque il pensiero positivo E vuoi quindi lo yoga, vuoi la meditazione Vuoi qualcosa che ti renda felice Non necessariamente questo ovviamente Però ecco la felicità è il giusto condimento per attutire malattie Per far funzionare meglio i farmaci addirittura Perché per l'appunto alcune cellule diciamo del nostro organismo Che permettono di assorbire il farmaco Stiamo semplificando un concetto molto complicato, complesso Però ecco grazie al sorriso queste cellule si nutrono meglio anche del farmaco Anche se è un sorriso fatto un po' sforzato Non importa No, no, no Provateci Sì Ecco perché cucinare è nel tuo libro È un atto d'amore Ecco è un atto d'amore È il titolo proprio che secondo me arriva al cuore e anche alla testa delle persone Proprio questo portare le persone in cucina come un'occasione di benessere E anche di investimento della salute E possiamo diventare tutti più creati Assolutamente Guarda io devo ringraziare infatti HarperCollins, il mio editore Lo ringraziamo anche noi No perché è un libro molto particolare Molto È un libro a colori intanto perché è pieno di foto della mia vita Bellissime Non mi è mai capitato di poterne mettere così tante Arricchido proprio di tanti colori E poi l'ho voluto strutturare in una maniera particolare E mi hanno accontentato Cioè il mio pensiero è diventato poi realmente un prodotto editoriale Che appunto da ieri è libreria Quindi oggi è la prima radio in cui entro a presentare il libro Pensate che onore Pensate che onore Sono io onorato E come l'ho strutturato? È molto semplice Dato che cerco di rispondere a quella che è la richiesta da parte della community L'ideale era sempre quello di soddisfare questa richiesta Quindi di avere un elenco della spesa da poter acquistare per poi poterlo mettere in pratica Bravo Qualcosa come dico sempre io di concreto Accompagnateci e tu accompagni E vi ho accompagnato ideando delle ceste Bravo Dieci Dieci ceste Tu devi immaginare quindi ogni cesta Chi l'ha acquistato se ne accorge perché sfogliando saltano all'occhio queste dieci ceste Ecco ogni cesta contiene una serie di ingredienti A volte le ritrovi quelle della cesta 1 Poi anche ritrovi nella cesta 4 magari qualche ingrediente è ovvio Però ogni cesta ha degli ingredienti più protagonisti di altre Con la premessa che abbiamo in casa una buona dispensa Quindi abbiamo sempre una pasta integrale, un riso integrale per lo più piuttosto che delle farine Un olio extravergine d'oliva insomma Questa è la nostra base di default Quello anche che ti ha insegnato la mamma C'è proprio i fondamentali Tu a quelli aggiungi gli ingredienti della cesta E ti do delle alternative per cucinare 5, 6, 10 ricette In modo tale che anche con lo stesso ingrediente, con la stessa spesa Puoi sbizzarrirti anche con altre ricette Perché spesso e volentieri poi è anche questo Marco ho comprato la farina di ceci E poi l'ho lasciata lì Ma cosa ci faccio oltre alla frittatina che mi ha insegnato? Tac! Ecco qua la risposta Ad esempio io faccio una pastella Eccola Faccio una pastella un po' in fluida C'è farina di ceci e acqua Poi immergo le foglie di salvia Un pochino quelle grandi Che buono E poi fac le frigo Buonissimo Ci credo Vabbè io la uso un pochino più densa Per fare una specie di frittatina Qui aggiungo la cipolla, aromi vari Broccoli di stagione Guarda viene fuori una cosa fantastica Perché tiene bene la farina di ceci Tiene molto bene Ma anche nei dolci è molto buona Nella giusta quantità ovviamente Perché poi Perché poi bisogna fare anche degli esperimenti Quando la nostra dispensa si arricchisce di prodotti Per alcuni nuovi Perché con cui non abbiamo Di mestichezza magari Poi facciamo gli esperimenti Allora iniziamo a mescolare Un po' come suggerisci tu Diversi tipi di farina E poi a volte È vero Quando improvvisiamo viene bene Altre volte bisogna aggiungere Per me sono sempre prove uniche Perché tendo a non pesare Per cui se è buono Ecco Non verrà così E poi basta E se è cattivo posso solo migliorare Va bene Ritorniamo alle ceste Dieci ceste Per entrare in relazione con E conoscere alcuni prodotti Che magari non conosciamo bene Non siamo abituati A inserire la nostra dieta Io dato che oggi è il 3 di novembre Io mi sono appuntata Gli ingredienti della cesta Numero 3 E sono Farina di ceci Per l'appunto Farina di tipo 2 Porri I miei preferiti Zucca Magnifica Olio extravergine d'oliva Piselli surgelati Sì Questo è un esempio di cesta Sì Un esempio di cesta Per far capire Intanto che Si segue anche Parte della stagionalità Dobbiamo anche però Far Cioè è il mio compito Spiegare anche Che un prodotto surgelato Non è un prodotto Negativo Bravo Anzi Ci fa risparmiare molto tempo Ma non solo Anche a livello di coltivazione Ti permette di risparmiare Determinate Determinate Cioè Grazie al tipo di coltivazione Che ha Al tipo di trattamento Quindi di surgelazione Di conservazione Permette anche di abbattere Diversi costi A livello Nel mondo Dell'agricoltura stesso Detto questo Cosa vuol dire Che il pisellino Coltivato Nel suo periodo stagionale E poi surgelato Nell'arco di poche ore Dal suo raccolto È come un pisellino fresco Certo E alcuni tipi di vegetali Surgelati Si preservano Meglio Che quelli freschi Piuttosto che in scatola Piuttosto che Che abbiamo Nella nostra Trigorifero È meglio Sempre mixare Frutte e verdura Di stagione Poi ci facciamo aiutare Da qualche verdura Surgelata Li combiniamo insieme Ma il surgelato Può essere anche Un'alternativa Per chi dice Non mangio la verdura Perché non ho poco tempo No Perché A parte che adesso Le verdure anche al supermercato Quelle fresche Le troviamo già pulite Convenzionate Quindi basta solamente Hai di tutto ormai Non abbiamo più scuse Però E poi con libri Come quelli di Marco Che insegnano A utilizzare i prodotti In modo sfizioso Ragazzi Non possiamo Fare altro Che volerci bene Perché cucinare È un atto d'amore Però questo è un esempio In cui appunto Vedi Ti ritrovi una serie Di ingredienti Con i quali poi Mischelandoli Tra di loro Ottiene ricette comunque Buone Ricette fantastiche Buonissime Volete sapere Ti dico che cosa C'è scritto Nella cesta Nella cesta numero 3 Ad esempio Per capire Con gli ingredienti Che vi ho appena Raccontato Marco vi suggerisce Un brisé con porri Una frittata Senza uova Che possiamo fare Ancora con porri Perché Quando dicevamo Lega Certo Poi abbiamo Una vellutata Di zucca E zenzero A queste Tutte queste ricette Tu suggerisci Delle varianti Certo E poi noi possiamo Fare ulteriori varianti Dopo che le abbiamo assaggiate Questa è un'altra chicca Grazie Grazie Nico È una chicca Per questo libro Cioè Di ogni ricetta Cerco di dare Una variante in più Perché Perché ovviamente Magari Penso all'amico Vegano Penso all'amico Intollerante O sensibile A Il lattosio Piuttosto che Al glutine Quindi ti do Delle alternative Per non Perdere Diciamo La bontà Di questa ricetta Di questo suggerimento In cucina E per potertela Far gustare L'ideale In questo caso Proprio Nella ricetta 3 È La brisè La frittata La vellutata Il pate di zucca E ceci Ma buono Quello lì Pesto con piselli Zucchini e caprino Con variante Polpette greche Con zucchine e ceci Sushi mediterraneo Ma tu qua non hai portato niente Però Cioè Non è che Ha portato Non so Una polpettina Non fammi sentire in colpa Hai ragione Perché ti aspetto La prossima volta Vengo a mani Non vuote A mani piene Va bene Va bene Però ecco vedi Ti sto dando dei suggerimenti Per miscelare insieme Questi ingredienti E per non perdere Neanche diciamo Un grammo Allo stesso tempo però Ciò che dico Allora È sicuramente un libro Che ti permette Grazie un po' La mia creatività Di aiutare La tua creatività Però ecco In cucina Sentiamoci liberi Liberi In venti anni Che spesso Magari mi chiedete anche Qua mi rivolgo A tutti quelli che Brisè con porri Ecco Hai la cipolla in casa Metti la cipolla Hai le È ovvio che poi Vuoi mettere la zucca Che ti è avanzata Da un'altra ricetta Fai la frittata Con la zucca Vai tranquillo Cioè mescoliamo Assolutamente L'importante è che Colorare il piatto L'importante è questo Nicolai Ti dico sempre Di colorare il piatto Perché è fondamentale Oggi Cioè quello che abbiamo Scoperto è proprio questo Che il colore È Nasconde Ogni colore Nasconde Dietro di sé Un tripudio Un forziere Proprio Di molecole Funzionali Capaci di fare prevenzione Che fanno prevenzione Se però Assunte quotidianamente Non è l'eccezione In questo caso Che fa L'azione positiva Lo zenzero Fa bene Ma non fa bene Consumato una volta all'anno Fa bene Se tu impari Ad assumerlo Con una certa regolarità Idem Le spezie La riduzione del sale Cioè C'è tutto Un perché Poi dietro a ogni cesta Ecco Si impara Un po' Un metodo Ecco Direi Una La filosofia Marco Bianchi Che è comunque Frutto Di Dati Scientifici Cioè Marco Ha tradotto Ha preso Le indicazioni Quelle dell'OMS E degli studi E li ha tradotti In piatti In suggerimenti In metodi di cottura Bravissima Non è Non c'è nulla Di inventato Ma c'è tutto Tradotto E a beneficio Dei tuoi Tantissimi fan Senti Marco A me questo libro Oltre Per le foto Per le ricette Per questo Modo anche Che tu hai Di trasferire Dei concetti E di renderli Fruibili Appetitosi E quindi Incuriosire il tuo lettore Perché tu Comunque fai scuola E in questi anni Hai veramente Aiutato tante persone A capire Che Cambiare stile alimentare Poteva avere Un effetto Molto piacevole Sulla percezione Di sé Sul benessere E anche Essere un investimento Della salute Mi sono piaciuti Dieci perché Perché Anche qua Adesso ti lascio parlare Scusami No no Questi dieci perché Nascono proprio Dai perché Vostri Cioè di chi mi segue Nel senso che Spesso e volentieri Odio Il bianco e il nero Odio queste Queste forme di estremismo Che spesso vanno Di moda Quindi No a quello Assolutamente Poi magari Nella sua vita Fa tutt'altro E quindi Quel no alla fine È molto confuso Nella sua testa Mi riferisco ovviamente A livello di scelte alimentari Quindi Ecco Ho cercato di prendere Veramente I vostri Dieci Dubbi Più Più grossi Che avete In ambito Proprio nutrizionale E li ho In qualche modo Sviscerati In queste Bello Questa è un'idea bellissima In questi perché Spiegando proprio il perché Ho scelto Di Introdurre meno zucchero Meno sale Se non addirittura eliminarlo Perché ho scelto integrale Perché spesso mi viene detto Ma Marco Ma sei stitico Mangi integrale No Non è una questione di stitichezze Di integrità Bensì di integrità Ho pensato che l'altra volta Lo raccontavo a Laura Sono andata in una panetteria Qua a Milano E ho chiesto il panne integrale Certo E la signora Molto simpatica Mi ha detto Ma signora Ma lei è così magra Mi mangia anche il panne integrale Ho detto sì Cioè Ho detto ma guardi Non è che mi toglie dei chili Ne me li aggiunge Da quel punto di vista Poi ho detto Ma senti Nico Devi venire qua a fare Pi 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 Ho detto E sono andata Cioè Ma dato il panne integrale Non ce l'aveva Perché non è così facile Trovarlo Buono 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 Quello no È vero Bisogna stare attenti O se no si panifica a casa Tu fai il pane a casa Non sempre Non sempre Ma ultimamente È diventato un gioco Da fare con Vivienne Cioè La magia della panificazione Della forma lievitata Della farina L'acqua Questa magia Che avviene Nell'arco di qualche ora Il profumo Che poi avviene in casa Quindi ultimamente Sì Ammetto Non posso sempre Però Capita Perché giocare in cucina Con i bambini Fa bene È educativo Sì E poi l'introttiene Si creano Si fanno delle belle risate La cucina diventa Un po' un campo di battaglia Ma non importa Siamo nel 2017 Abbiamo anche la fortuna Di poter Vedere Portare Toccare con mano Anche i bambini In queste realtà Che sono Vuoi l'agriturismo Vuoi fattorie Didattiche Quindi vedere anche il seme Da dove nasce la farina Come nasce Cosa ci puoi fare dopo Cioè È un percorso Che insomma Ovviamente Prima inizi a farlo Con un bambino Meglio è Perché apprezzerà ancora di più Poi quella che è la materia prima E questo è qualcosa Che sto facendo con Vivienne Da quando è nata E ti dà grandi soddisfazioni Per ora sì Allora Ad esempio Tu hai parlato di sale Perché limiti il sale Perché a volte Lo togli completamente Certo Oppure perché usi l'integrale Intanto perché il sale Lo sostituisci tu spesso Con le spezie Ma con In modo così Per dare un suggerimento A chi ci sta ascoltando Vedendo Ma sicuramente È tra i nostri obiettivi salute questo Nel senso che A proposito A proposito Eh no Qua cado veramente a fagiolo Nel senso che In Italia Esageriamo con il sale Dovrebbero essere al massimo Appunto 5 La quantità di grammi Di sale Consumati Da consumare Nella giornata Non va bene Vivere senza sale Attenzione Non Non fraintendete quindi Perché c'è la necessità Di avere La giusta quantità di sodio All'interno del nostro organismo Però appunto Nella giusta Posologia Definiamola così Come un farmaco Alla fine E il sale È meglio iodato Come dicono gli endocrinologi Certo È meglio iodato Magari Non iodato Se siamo in un luogo di mare Se consumiamo magari Molto pesce Molte alghe Cioè Poi lì bisogna anche capire In base All'alimentazione di ognuno Però tendenzialmente Un buon sale Integrale Marino Iodato È sicuramente L'ideale L'ideale ma per l'appunto Nella giusta quantità Perché in Italia Superiamo del doppio La quantità Necessaria Necessaria ai fini Di mantenersi In buono stato di salute Superata questa quantità Il sodio Sappiamo bene Che poi ha degli effetti Negativi sull'organismo Vuoi Vuoi l'angiotensina Vuoi una serie di proteine Che poi portano A vasocostrizione Quindi il nostro Sistema cardiovascolare Ne risente Ma ne risente Non dall'oggi al domani Sono danni Che noi accumuliamo Nel corso del tempo E quindi Questi danni Possono avvenire Poi a 30 anni Può avvenire A 40 50 80 Poi lì C'è l'effetto genetico E c'è l'effetto De tutto lo stile di vita E pensa che la grande parte Del sale Che noi Di cui abusiamo È quello nascosto Non è tanto quello Che aggiungiamo Quindi Bravissima Quindi Un grazie a tutte le aziende Che oggigiorno Pensano anche a questo E quindi l'hanno ridotto L'hanno tolto A nostro Discapito Favore Vedetela voi Però Io promuovo Sono Promotore di tante aziende Che hanno pensato a questo Per la nostra salute Quindi Che hanno tolto Insaporitori Sale Per venire Incontro a queste esigenze Perché abbiamo Un'Italia Molto salata Tu prima parlavi di OMS Di linee guida Internazionali È vero Noi siamo i tre paesi Che consumano più sale E c'è chi esagera Molto di più Come chi Esempio Non ne utilizza Quindi Però il mio libro Si basa sulle nostre evidenze Su quelle nazionali Quindi non è che sto parlando Degli Stati Uniti In America Ma tanto sono lontani Da noi Chi se ne frega Purtroppo Siamo noi troppo salati Ci fa entrare a casa sua Ma anche un po' Ci guarda e ci bacchetta E l'idea di avere Delle alternative al sale Ce ne sono Diamone qualcuna Guarda Io banalmente Utilizzo molta cipolla Anche disidratata La cipolla disidratata Averla in vasetto Pronta lì Tra i condimenti Accanto all'olio Magari spingiamo Un po' Indietro il sale E io davanti a tutto C'ho sempre Paprica Fumicata C'ho la cipolla disidratata Ho il pepe Bianco Nero Rosa Cioè Tendenzialmente sì Perché è molto più profumato Anche E poi c'ho un po' Anche di erbe Aromatiche Essicate Ho il fresco Sul mio davanzale Quindi quando Il rametto di rosmarino Di salvia Diventa un gioco Per Vivienne Nel sapore Rimane sulle dita Cioè è un gioco vero e proprio Però profuma E regala sapore ai vostri piatti E il mio consiglio è proprio quello Poi chiudo con questo perché numero uno Però ecco Utilizzare questo tipo di insaporitoria Di scapito del sale Permette di diminuire In automatico il sale Quindi proviamo a farlo Una cipolla disidratata Perché? Sei contro la cipolla fresca? No Assolutamente Però Quella essiccata Concentra molto di più I suoi sapori La sua dolcezza Quindi permette in un piatto Di regalare molto più Un gusto molto più spinto magari Poi aggiungiamo anche quella fresca Quella surgelata Non è un problema Però ovviamente possiamo dare Il primo pizzico di sale Non è di sale Sì, gli udiamo subito un po' di brio Bravissima Bravissima E questo è un modo comunque per utilizzare In ogni nostro piatto Un sapore Cioè per esaltare anche altri sapori Senti arriviamo alla parola Integrale È il tuo secondo perché? Perché ci tieni a specificare Integrale ovunque è possibile? Integrale intanto lo ricorda anche il professor danese Amico anche Sì, l'abbiamo intervistato oggi perché ha pubblicato E' stato uno degli autori di un studio internazionale Molto interessante Sulla nuova approccio alla patologia di Crohn Quindi si lavorerà più sull'infiammazione che sui sintomi Le flogosi oggi, l'infiammazione Siamo sempre sulla notizia Ma infatti non ci siamo organizzati Devo essere sincero Ero pronta Eri prontissima Ma anch'io vi seguo Quindi so anche No, diciamo che Tutti i nuovi studi hanno ormai confermato Quanto le fibre siano efficaci anche contro l'infiammazione E' ovvio che in una fase infiammatoria Acuta La fibra dobbiamo ridurla Quindi non è per tutti In tutti i momenti In tutti i generi Fasce d'età E via dicendo Però Con la fibra puoi fare una forte prevenzione Banalmente Cancro del colon retto Lo riesce ad abbassare il rischio di più dell'80% Consumando Integrale Ma Vuol dire Cavolo ragazzi Sono numeri importanti E l'integrale Non è l'integrale degli anni 80 Che era cartone pressato Diciamo Oggi abbiamo un integrale Veramente molto curato Non ti accorgi neanche Che sia integrale Però Riesce ad apportare Una buona quota di fibra Che più o meno Tra i 25 e i 30 grammi Al giorno Da poter consumare In maniera dignitosa Poi abbiamo Insolubile Fibra assolubile Abbiamo una distinzione Che andrebbe fatta Ma non la facciamo adesso Però Per l'appunto Perché non abbiamo tempo Perché vogliamo andare avanti Con i perché Terzo perché Perché i tuoi dolci Che sono tra l'altro Squisiti A cui io mi ispiro spesso Sono meno dolci Di un dolce tradizionale Ma aggiungere io Più buoni Qual è il segreto Di Marco Bianchi Il segreto è utilizzare Frutta secca Cacao Dove è possibile Magari Frutta fresca Che è già di per sé dolce Utilizzare Frutta disidratata Vuoi l'albicocca Vuoi un dattero Vuoi dell'uvetta Che hanno comunque Un loro sapore Un dolcino Ma sì Ma andandole a coprire Con Dell'ulteriore Diciamo Zucchero Vai ad appesantire Quel dolce stesso E per chi non è abituato Deve rieducare Il proprio palato Però può farlo Perché nel corso del tempo Ci siamo accorti Anche scientificamente Che tu lo riduci Pochissimo Ogni settimana Quel grammo Quel qualcosa in meno E l'effetto Poi nell'arco di qualche mese È un effetto strepitoso E positivo Ne abbiamo esperienza Perché molti di noi Sono passati Dal zucchero nel caffè A berlo amaro Magari sono passati Gradatamente Adesso apprezzano Soprattutto il caffè Soprattutto amaro Con i dolci Funziona più o meno Allo stesso modo Invece di aggiungere La dose della ricetta Che dice Che ne so Due t di zucchero Uno inizia ad aggiungerne Un etto e mezzo Poi un etto E poi a calare Magari aumentando La quantità Di ingredienti Che sono un pochino Più dolci Tra l'altro Adesso è tempo di zucca E la zucca È una base straordinaria Per dolci Fantastica E poi lo zucchero Ricordiamoci Non è lo zucchero Considerato come Io non sono nutrizionista Non sono un dietista Quindi non do Delle diete Per dimagrire O a favore De diete ipocaloriche Faccio qualcosa Che è un po' fuori dagli schemi Nel senso che Ti trovo Quell'abbinamento Corretto dei cibi A seconda Della loro funzionalità Quindi secondo Quello che la ricerca Ci ha detto Negli ultimi mesi Settimane Te lo riporto In un piatto Ci porta in un laboratorio Il suo laboratorio E la cucina E lo zucchero È tra queste cose Però purtroppo Ci siamo accorti Che è alla base Di tante infiammazioni Anche dell'intestino stesso Quindi riducendo Gli zuccheri Non è questione Di creare un piatto Bravissima Ma di infiammazione Che purtroppo È alla base È l'humus È terreno fertile Di possibili malattie Quindi cerchiamo Senza diventare Paranoici Ossessivi Certo Cerchiamo poco Poco alla volta Perché scegli Solo alcuni grassi Piuttosto che altri È come lo zucchero E l'integrale È uguale Abbiamo sulla base Della scelta dei grassi La funzionalità cerebrale E non solo Il funzionamento Di alcune molecole Anche dell'intestino L'assorbimento Di alcune vitamine Ecco Sono alcuni Di questi grassi Sono più buoni Per restare Più in salute Tra questi grassi Ovviamente Spicca L'olio extravergine D'oliva E qua da buon italiano Ovviamente Ce la dobbiamo menare Quanto più possiamo Perché Noi abbiamo veramente Un farm alimento Sì Puntiamo all'italiano Sì Ecco In alto Perché in ogni ricetta Metti così tanto Mondo vegetale Perché le linee guida Nazionali E internazionali Tutti i lavori scientifici Sono venuti ormai A un unico concetto Immaginiamo Il nostro piatto Diviso in quattro Grossi spicchi Tre quarti Devono essere Di origine Vegetale Non vuol dire Verdura Per forza Perché anche I legumi Non è verdura Però appartengono Al mondo vegetale I cereali integrali Non è verdura Ma sono ovviamente Del mondo vegetale Quindi Tre quarti Del nostro piatto Devono essere Di origine vegetale Che siano cereali Che siano legumi Verdura Voilà Molto semplice Arriviamo Il numero 6 È un tema Un po' Di battuto Cosa ti preparo Per questa tossetta qua Zenzero C'ho infusi di zenzero Nello zaino A non finire Quindi Se avete la tosse Zenzero Mamma mia Zenzero sì Infuso Acqua Zenzero Buccia di limone Non trattata biologica Mi raccomando Faccio bollire 5 minuti Poco di più Insomma Ed è pronta Ma veramente È un'efficacia Paurosa Allora Quindi si va Di zenzero Ma adesso ti voglio qua Numero 6 Perché alterni latte vaccino A bevande vegetali Quindi vuol dire Che tu bevi latte vaccino No Io latte vaccino Non lo bevo Non mi piace Però Lo utilizzo Per Cioè Non lo bevo Come bevanda Diciamo Però Mi macchi un caffè Piuttosto che un cappuccino Piuttosto che In cucina Come ingrediente Sì Allora sì Preferisco Senza lattosio E senza grassi Perché Perché Lo scoprirete leggendo Però Diciamo che resta E più digeribile Il nostro intestino Ama di più Quando Introduciamo Poco lattosio Il nostro intestino È un tipo Un po' particolare È intelligente Ma gli salta spesso La mosca al naso Irritabile Bravissima Quindi Allora Bevande vegetali Non si chiamano più Mi raccomando Latte vegetale Oddio Basta 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 Perché ormai Da un giorno all'altro Non si può Basta Ci sono delle parole Che vengono cancellate Comunque Anche qua però Perché Bevanda vegetale Bevanda vegetale La scelta Come alternativa Al latte vaccino E io appunto Spingo Sottolineando Il più possibile Scremato Perché sono i grassi Quelli un po' più pericolosi Per la nostra salute E lieta Ecco I nostri Le bevande vegetali Attenzione Agli zuccheri aggiunti Spesso e volentieri Perché sento anche Amici che consumano Litri e litri Di bevande vegetali Non considerando però Gli zuccheri aggiunti Che vengono messi Quindi Andremo poi A sforare Sulle quantità di zucchero Quindi attenzione In questo Leggete l'etichetta Sempre E poi alterniamo Perché in base Al vegetale Da cui vengono Certo Da cui derivano Porda dietro dei nutrienti Più o meno Più o meno proteici Bravissima Giusto Perfetto Quindi E un'ultima nota Ma lo posterò Nei prossimi giorni Giuro Ci sono degli studi Ultimissimi Legati al latte Proprio In cui vanno a sfatare Anche falsi miti False credenze Che si credevano appunto Fino a qualche anche mese fa Ma che anche io stesso In qualche modo Hai abboccato No abboccato Divulgavo perché erano dati Che avevamo fermi Fino a un tot di tempo Quindi io Ripeto sempre Io comunico Quello che è il dato Scientifico Al giorno d'oggi C'è stata questa Grossa revisione Di lavori Letteratura enorme Legata al mondo Del latte E per fortuna In qualche modo Si è capito Che cosa può dar Fassiio del latte Perché la scienza È in divenire Ma certo Non è Assolutamente E di questo E di questo Parleremo anche Alla bufala in tavola Noi abbiamo proprio Creato un appuntamento E Marco naturalmente È invitato Lo catturerò Per un'altra puntata In cui cerchiamo di aggiornare Da un lato Marco Bianchi Marco Bianchi ha scelto da 15 anni ormai Di non consumare carne E derivati della carne Quindi non consumo salumi Non consumo insaccati Consumo però Per l'appunto Formaggi Yogurt Latticini Consumo il pesce Quindi non sono vegano Non sono vegetariano Quindi insomma Mi definisco un po' Un salutista Il perché l'ho scelto L'extariano Va bene Si dice così In America Questi che mangiano Non lo so Avevo letto Ma comunque Sei Marco Bianchi Sono Marco Bianchi Ma sono come tante persone Perché spesso e volentieri Una buona pasta E fagioli Mette d'accordo tutti Ecco Ed è un piatto vegano Se non la fai con le cotti Che intendo dire All'interno Accontenta davvero tutti Quindi una volta Ecco ci fermiamo A dei A delle etichette Si Che sbagliamo Veramente in maniera ignorante L'importante Ecco L'importante È rimanere in armonia E rispettare le scelte Certo Anche degli altri Assolutamente Io dico sempre che Carni Uova Sempre biologiche Ovviamente Rigorosamente biologiche Mentre per le uova L'ultima ricerca Proprio Ha dimostrato Che anche un uovo al giorno Non influenza il nostro colesterolo E anzi Ci protegge Dal profilo lipidico Quindi Quindi benvengano Povere uova L'hanno sempre ben strattate Invece no Invece Ovviamente Qualità Numero uno Perfetto Li specifico qualità E rispetto Ovviamente Animale Detto questo Il discorso carne Abbiamo Una posologia Quindi 500 grammi Di carni rosse Alla settimana È la quantità massima Da consumare Appunto Per chi ne vuole fare uso Più ci si allontana Da questa quantità Più Aumenta il nostro rischio E probabilità Di Ammalarsi Di cosa Di alcune forme tumorali Che correnano Col consumo di carne E poi Di Di malattie cardiovascolari Di queste carni rosse Sono incluse anche Però Gli insaccati I salumi Le carni processate Di cui la quantità Scende a 50 grammi Quindi Attenzione Anche agli amici sportivi Che magari Fanno incetta Di bresaola Prosciutto crudo Ecco Non è Non è più così Insomma Ecco Allora Marco Noi prima di salutarci Intanto ricordiamo Il titolo del tuo libro Che come tutti Gli altri I magnifici 14 Che l'hanno preceduto Sarà Veramente Un grande successo Perché Cucinare è un atto d'amore Ma tu Scrivi i libri Con passione Con amore Raccontando Veramente Quello che fai E quello che metti In pratica E questo Si vede Si vede E si sente Mi avevi promesso Una ricetta però Sì Vogliamo dare La Sucker Quindi La diamo Allora Prendo il telefono Perché almeno Possiamo segnarci Direttamente In diretta Il nostro Le nostre quantità Carta e penna Poi sui social Comunque Del obiettivo salute Troviamo tutto 200 grammi Di farina Di tipo 2 Che è una farina Semi integrale 20 grammi Di cacao amaro In polvere 80 grammi Di zucchero A velo Integrale o no Poco importa Però sono 80 grammi Quello importante 80 grammi Di amido di mais Detta frumina 80 grammi Di olio di girasole O di mais O anche extravergine D'oliva Purché delicato Se no ci la faccio Nella preparazione Nella preparazione Del dolce 450 mililitri Di bevanda vegetale Oppure Un latte Che a voi piace Punto Magari sconsiglio Quello di riso Perché ha un alto Picco glicemico Quindi è molto Amidaccio Quindi stiamo buoni 250 grammi 250 grammi Di cioccolata Al 60% E qua specifico 60 perché se no Non abbiamo una buona ganache Una buona copertura Più è alto Il cacao Quindi forse anche Un cioccolato All'80 Va bene Per la nostra salute Ma attenzione Perché spesso E pochi grassi Quindi si aggiunge Della panna Per fare una bella copertura Tanto vale Quindi il compromesso È un 60% 300 grammi circa Di confettura Di lamponi E poi la bustina Di lievito Cosa facciamo L'olio Lo sbattete Insieme a 300 Millilitri Soltanto Dei 450 Di bevanda Vegetale O latte Perché gli altri 150 servono Per sciogliere Il cioccolato A bagnomaria Mi raccomando A bagnomaria Mi raccomando Perché se no È finita È finita Mescolarlo E appena si scioglie Togliete dal fuoco E lo sciogliete Diciamo Fuori dal fornello È fondamentale questo Vabbè Il procedimento È semplice Meschi tutto insieme Gli ingredienti Metti nel forno 30 minuti 35 minuti Con carta forno Certo E torna a 180 gradi Forno statico È meglio Se no Il ventilato Ci secca troppo La torta Ecco Non mi cadete lì Sul ventilato Sforniamo La nostra torta La lasciamo raffreddare Bene 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 La tagliamo a metà All'interno Mettiamo la nostra Bella confettura Di lamponi Richiudiamo La nostra torta Nel frattempo Abbiamo fatto sciogliere Il cioccolato Che è arrivato A 40 gradi Quindi 40 gradi Di temperatura È la temperatura Perfetta Perché è una bella Ganache Una specie di Termometro Sei bravissima Tu sei avanti È un vecchio termometro Che avevo Per la cucina Adesso 40 gradi 40 gradi A occhio Come fai Ad accolto No no Lì lo devi fare Sì Ecco qua Io ci metto In dittino ormai Però sì È giusto È giusto Partiamo senza dittino Compriamo un termometro Magari da cucina Detto questo Copriamo la nostra torta Con questa crema ganache È fantastica E dopo qualche ora Avrete una splendida Sacker Versione Gualtiero Marchesi Perché è il maestro Che mi diede La Non la ricetta La ricetta l'ho inventata io Con questa alternativa Più salubre Però mi diede L'alternativa Del lampone Che in effetti È molto meglio Di quella dell'albicocche Perché Perché lampone Cioccolato Ah no Guarda la morte è sua Ecco a proposito di perché Al suo perché Come si dice qua a Milano Cosa aspettate Andate Fate questa torta E poi postate Mi raccomando Io l'aspetto La posterò comunque Anche io nei prossimi giorni Sui social Di nuovo La posterò sul mio blog Quindi Vi invito ovviamente A sfogliare il libro E anche alle presentazioni Perché adesso Partiamo È un book tour Pazzesco La prima tappa ufficiale Dopo ieri Che ero Luca La prima tappa Sarà a Torino Al circolo dei lettori Che amo come posto Innamorato Il circolo dei lettori Torino è tutta bella Sabato 11 alle ore 18 Quindi vi aspetto Venite Mi raccomando Torinesi Ecco Poi sarà la volta di Alba Sarà la volta della Book City A Milano Quindi il 18 ottobre Insomma qua lo vedete Anche se siamo entrati Un po' in casa sua Ma potete poi andare E fatevi fare un autografo E Insomma è tutto vostro Grazie mille Grazie mille Nicoletta Grazie a tutti gli amici Cucinare è nato d'amore È obiettivo Salute Grazie Grazie E noi ci vediamo Come sempre domani Buona giornata da Nicoletta E da Marco Bianchi Ciao Ciao